Allerte di emergenze di protezione civile in tempo reale, direttamente sul telefono di casa o sul cellulare. A Collecchio, Felino, Montechiarucolo, Sala Baganza e Traversetolo, cioè i 5 comuni dell'Unione Pedemontana-Parmense, è entrato in funzione Alert System, realizzato da Comunica Italia. Per ricevere gli avvisi tramite un messaggio vocale, basta iscriversi al servizio che è gratuito, seguendo il link pubblicato sul sito del Comune, per il quale si desidera ricevere le allerte, oppure sul sito dell'Unione Pedemontana-Parmense. I cittadini dovranno naturalmente fornire il proprio recapito telefonico che verrà utilizzato solo per le finalità del servizio. Alert System va ad aggiungersi al portale regionale dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al quale si può accedere per monitorare in tempo reale le allerte che riguardano il proprio Comune di interesse. Il servizio Alert System è fornito in modo gratuito ai comuni, grazie ai contributi volontari di dipendenti e aziende, per mezzo di un accordo tra Unione Permense degli Industriali, CGL e CISL e UIL e il Comitato Provinciale della Protezione Civile. Un accordo che ha portato alla Costituzione di un fondo nel quale confluiscono gli importi dell'ora di lavoro donate ai lavoratori, che vengono poi raddoppiati dalle aziende.